Ragazzi, come al solito, prima di cominciare voglio salutare degli iscritti, cioè, allora, ciao Antonio345, ciao Nicola10, ciao SalliSole. SalliSole la potete trovare anche su YouTube come StellaRossa, o StellaRosa, non mi ricordo. Iscrivetevi che anche lei fa i video, quindi con questo è tutto, ci vediamo nel video, bella! A tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del canale. Come vedete siamo sulle fazioni di ItaNetwork, se non conoscete questo server veniteci, l'ipe.itanetwork.eu, veniteci che è un server figo, quindi noi iniziamo col video, bella! Ok, come potete vedere siamo praticamente nudi, non abbiamo niente, siamo tipo i polli, tutti spennati, senza niente, ma se noi facciamo slash, dovrebbe essere novellino, così, sì, abbiamo il kit novellino, quindi siamo più forti adesso, più o meno, armatura d'oro, non è che vale tipo quella di ferro, ma vabbè. Adesso noi ci dobbiamo buttare qua e trovare un posto dove fare la nostra base, quindi ci vediamo dopo che mi sono allontanato di 150 milioni di metri, non scherzo, ma tipo un po' di più di così, perché sennò poi ce la griffano la base e non è bella, quindi è bella! Ma raga, come vedete siamo tipo plebei, se scrivo io ciao, siamo plebei, non abbiamo nessun rank, nessuna fazione, perché ho voluto iniziare così, solo, cioè, giocare solo con voi, tra virgolette, quindi non ho giocato alle fazioni, ho aspettato per fare il video e poi ho iniziato a giocare. Oh, intanto è entrato a Temporal Bakers, 86, ciao, che l'ho salutato nel video scorso, ma vabbè. Quindi ho fatto un po' di strada, ma siamo ancora vicini allo spawn, quindi ci vediamo dopo che ho fatto ancora più di strada. Adesso sto tornando un po' indietro perché ci serve una barca e non ho il legno sufficiente, quindi devo prendere un po' di legno qua su questa foresta e poi ritornare là. Ho trovato una base griffata, non valeva la pena registrare, non c'era niente, ma vabbè. Adesso prendiamo questo, ho rotto poi il piccone perché ci sono caduto dentro un cratere di 60 metri, infatti ho dovuto scavare, fare i pillar, ma vabbè. Prendiamo sto coso, il legno, almeno ho 3-4 pezzi, Ah no, ho 4, no, ho 3. Quindi se lo craftiamo qua la barca, mettiamo la crafting qua, prendiamo questo e non si craftava così. Come si craftava la barca? Così. Che cazzo? Ok. Così si craftava, mi pare. Metti questo, questo. Ah no, serviva una, quindi è pare sprecata. Vabbè. Mettiamo questo qua, il legno qua, ci prendiamo pure la crafting. E... Tac. Presa. Ora ci incamminiamo verso l'oceano, così andiamo in un'altra zona più... più distante dallo spawn, quindi ci vediamo dopo aver oltrepassato l'oceano di... Per voi è un secondo, per me è un'ora e mezza, ma vabbè. Ci vediamo dopo. Raga, ho trovato sta roba qua che non c'era prima. Forse ho sbagliato strada, ma vabbè, cioè... Noi approfittiamo per prendere un po' di legna. Tanto non guasta mai la legna, quindi... Ecco. Sì, l'ho presa. Ok. Prendiamo anche questo. Giusto un albero. Non è che sto qua a disboscarmi la foresta. Prendiamo questo qua. Quindi... Preso. Ora andiamo via. Perché siamo a KAB. E ci vediamo dopo. Raga, ma perché ho 2019 XP? Adesso l'ho notato. Che cazzo ci faccio con tutto questo? Cioè, potrei incattare le cose, ma... Perché 2.000? Come poi? Boh. Che c'è qua? L'acqua. Ok. Direi di farla un pochino... Cioè, dopo questa montagnetta qua. Questa qua. La facciamo sotto terra, quindi... Non la vedrà nessuno. No, scherzo. Poi... Non devo parlare che poi c'è l'aglifano in 2 minuti. Ok. Tipo... Qua? Qua va bene, qua. No. Qua dentro, qua. Ecco. Scavo e ci troviamo dopo aver scavato. Ecco, scavato. Adesso... Dobbiamo soltanto prendere... Eh... Predere? Che cazzo è prendere? Dobbiamo soltanto... Soltanto prendere l'ossidiana. Ma... E fare un po' più grande questa base qua. Perché è troppo piccola. Ma per comprare l'ossidiana ci serviranno i soldini. Quindi... Dobbiamo aspettare un po'. La fazione la creerò dopo. Qua ci sentiamo la home. Facciamo slash set home. Come la sentiamo? Base. Ok. Fatto. Ora se noi in teoria... Noi... In teoria se noi facciamo... Slash home. Base. C'è tipato. Ok. Va tutto bene. Adesso allarghiamo un po' la base così giusto per... E poi torniamo allo shop. Per vendere sti coblestone... Sti blocchi di cobblestone. E così facciamo i soldi. E andiamo a comprare l'ossidiana. Ok. Qua togliamo questo. C'è un po' più larga. Intanto c'è Temporal che mi scrive in privato. Lol. Aspetta che gli scrivo. Adesso la sto facendo ancora più... Un po' più alta perché era troppo bassa. Cioè... Saltavi. Vabbè. Quindi mettiamo questo. Se mettiamo... Togliamo. Un'impresa incredibile parlare mentre si è concentrato. Non sto scherciando. Vabbè. Tagliamo anche questo. La facciamo più larga perché è ancora troppo piccola. Che è la base di mosche. Ma... Ecco. Tagliamo anche questo. Intanto ci mettiamo poco. Quindi... Ho già rotto un piccone. Giusto per farvi capire. Non è che ho scavato tutto questo. Qua non ci stanno tre mosche. Ma vabbè. Adesso togliamo questo. Tolto. Andiamo alla... Allo shop. Quindi facciamo slash. Se si toglie. Spawn. Teoria. Sì. Siamo alla spawn. Dove è la shop? Eccolo. No, non è questo. No, non è questo. È questo. Ecco. Castello. Andiamo alle shop e vendiamo queste coble. Prendiamo un po' di ossidiana. Sempre... Se costa poco. Tra l'altro, ogni volta che passo qua lagga schifo. Una volta mi è cresciuto. Beh. Sembra che c'è Gesù Cristo laggiù. Ok. Dove si vende la coble? Qua? Sì. Ecco. Cobleston. Shop. Sì. Ma non schiacciare. Vendiamo tutto. Ora quanti soldi abbiamo? Teoria. 2000. Vabbè. L'ossidiana quanto costa? Dov'è l'ossidiana? Su un blocco di carbone. L'ossidiana. Trovo l'ossidiana e ci vediamo dopo. Raga, io l'ho trovata l'ossidiana, ma guardate quanto costa. Io ci rinuncerei. Tipo, lo facciamo qualche altro giorno quando avremo i soldi. Quindi, ciao. Adesso compriamo da mangiare perché non ci abbiamo niente. Sto già morendo. Ci ho messo tre anni per trovarla. Quindi. Ci vediamo le mele. Tanto non costano tanto. Qua. Qua. Dieci mele, tipo. Vediamo. Perché non mangia? Ma mangia! Aspetta, mangiamo la base. Qua. Laga un casino. Guardate quanto lag. Non gay. Io non so fare i comandi. Home. Base. Ecco. Mangiamo qua che qua non lagga. E non mangia. Ok. Non mangia un cazzo. Vabbè. Quanto. Quanto è durato il video? 9 minuti? Vabbè. Quindi non abbiamo altro da fare. Quindi concludo qua il video. Quindi mi metto 5 e ci vediamo dopo. E niente ragazzi. Io con questo set di oro vi dico che il video è finito. Mettetevi piace. Iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. E niente. Noi ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima. Bella. Raga. Cerchiamo di arrivare a 10 like per questa nuova magnifica serie. E niente. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella.